71 poster di grandi dimensioni in bianco e nero sono stati affissi sui muri esterni del Teatro Verdi in via Ghibellina a Firenze, in cui ha sede l'Orchestra della Toscana. I poster ritraggono direttori, musicisti, tecnici e amministrativi dell'orchestra, costretti a sospendere i concerti per l'emergenza Covid. L'iniziativa fa parte del progetto Inside Out ideato nel 2011 dal fotografo e artista francese J.R. L'operazione è apparentemente semplice ma proprio per questo potente, trasformare semplici ritratti fotografici attaccati sulle pareti della città in un'operazione di riappropriazione del territorio da parte dei suoi abitanti, persone comuni diventano così le protagoniste di un'opera d'arte. Di fatto si tratta della più grande esposizione fotografica mai realizzata che da oltre dieci anni si basa sulla partecipazione attiva di migliaia di persone in tutto il mondo, dal Polo Nord all'Equador, dal Nepal alle favelas brasiliane. In totale sono state realizzate oltre 1800 azioni e quasi 363.000 poster sono stati spediti in 142 paesi. Quest'azione artistica nel momento storico attuale che vede i teatri e le sale da concerto chiusi ormai da un anno a causa dell'emergenza sanitaria acquista però anche un valore simbolico, politico oltre che artistico. L'orchestra chiusa tra le mura del teatro e lontana dal suo pubblico esce all'esterno per farsi vedere e riaffermare la sua presenza e vitalità artistica anche a distanza. Sono qualche decina di facce, sono grandi volti fotografati in bianco e nero messi sull'inconfondibile sfondo DJR che raccontano chi lavora per il teatro. Quindi oggi assume anche un'importanza per quella che è una giusta attenzione verso i lavoratori dello spettacolo che stanno vivendo un momento di dramma, di enorme difficoltà. È un'iniziativa che arriva in un momento così particolare in cui le persone non stanno più insieme, non possono più stare insieme e noi invece li mettiamo fuori all'esterno, mettiamo in condizione anche tutto il nostro pubblico di rivedere adesso tutti i musicisti, tutte le persone che lavorano all'interno del teatro verde.